Per quanto mi riguarda ho cercato di far capire e far arrivare ai miei ragazzi che da domenica bisogna guardare soltanto il presente e il futuro, che è domani. Quindi non pensare a guardare indietro, anche perché potresti solo perdere delle energie, sia se ripensi alle cose fatte bene, sia se ripensi alle cose fatte male. Quindi siccome da domani inizia un altro torneo, dove si giocano partite secche, è su quello che ci dobbiamo concentrare. Abbiamo vissuto un'ottima settimana, ma così come le settimane precedenti, le ultime settimane, dove la squadra è molto spensierata, sfrontata, concentrata quando si lavora tatticamente e tecnicamente. Svolge l'ora, l'ora e mezza di allenamento in maniera intenso, ma intenso intendo mentalmente, dove si concentra su quello che fa. Questa è la risposta migliore. Io dico insieme al mio staff e ai ragazzi che noi abbiamo un'ora di allenamento, poi il restante tempo è occupato dai ragazzi per prevenzione, per altre cose che servono a curare il proprio fisico. Ma dentro al campo con me stanno un'ora, un'ora e dieci e posso dire che mi piace come si allenano. La risposta migliore.